Oggi torniamo a parlare di Mariupol, la città sul mar d'Azov che in qualche modo sta condizionando le sorti del conflitto. Oggi in un incontro con il ministro di difesa Putin ha di fatto sancito la conquista della città. Resta soltanto la fabbrica, la fabbrica della Azovstal dove continua la resistenza. Ma è molto interessante leggere il dialogo tra Putin e il suo ministro della difesa dove Putin ha bloccato l'ordine di assalto alla fabbrica e ha detto considero inappropriata la proposta di assalto alla zona industriale, ti ordino di cancellare. Dobbiamo pensare a preservare la vita e la salute dei nostri soldati ufficiali. Blocca questa zona industriale in modo che non possano lasciarla e il ministro ha annuito. Ora al di fuori della retorica che è sopravvissuta la traduzione di Google. La realtà è che i soldati ucraini intrappolati in questa fabbrica non possono più compiere azioni offensive. La loro resistenza non è in grado di influire sulle operazioni e allo stesso tempo, come ha sottolineato persino Putin, entrare e conquistare quel dedalo, quel labirinto di strutture d'acciaio, di tunnel sotterranei richiederebbe perdite molto ingenti. L'attenzione sulle perdite è sempre più forte nei discorsi del Cremilino e lo testimoniano anche alcune scelte. Ad esempio oggi hanno annunciato che un maggiore generale comandante delle forze aerotrasportate è stato sostituito da un colonnello che si è dimostrato eroe nelle prime fasi del conflitto. Quindi hanno sostituito un ufficiale da scrivania con quello che nelle prime giornate di combattimento si è mostrato capace di occupare da solo un ponte e difendere i suoi uomini fino all'ultimo. Cosa significa? È l'ennesimo segnale della volontà di correggere gli errori commessi e di procedere in modo diverso. Qui sul campo, dove c'è quella che è l'offensiva russa, che finora è un'offensiva abbastanza piccola e che avanza di un peso al giorno, ma avanza in modo terrificante dopo aver distrutto completamente gli edifici lungo le strade, in modo tale che da questi edifici non possano arrivare imboscate. E questo ci dimostra come i russi procederanno. Continueranno ad attaccare, continuano ad avanzare, ma lentamente, risparmiando le forze e logorando quelle degli ucraini. Lo scenario è uno scenario da appunto Seconda Guerra Mondiale, da Stalingrado, uno scenario sanguinoso e che richiederà molto tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.